Ok, benvenuti vediamo in questo video come alterare il flusso standard che in questo momento abbiamo fatto nel nostro video precedente in cui prendevamo in realtà una versione 1.5 di Stable Diffusion e poterci mettere invece il fatto di poter generare qualcosa di meglio allora la sorgente più completa almeno chi conosca al momento di modelli per immagini è Civitai e se andiamo in Civitai vediamo che abbiamo diversi modelli che come abbiamo visto l'ultima volta si distinguono in varie parti l'ora ad esempio piuttosto che il checkpoint quindi con il checkpoint noi proviamo a scaricarci per esempio un modello che fa fumetti fumetti in stile anim questo qua SDXL NIGI Special Edition e proviamo a scaricarcelo e per scaricarlo bisogna cliccare sul modello e poi abbiamo la possibilità di fare download option quindi clicchiamo e scarichiamo il modello 6,46 gigabyte che è il model safe tensor quindi facciamo ci fa vedere alcune immagini prodotte che sono interessanti facciamo un model safe tensor e quindi a questo punto ci scarica il modello che ci piegherà un po' ci è piegato un po' ma comunque la fine è arrivata 15 minuti circa da me e abbiamo praticamente SD questo file che possiamo prendere e trascinarlo praticamente facendo un in questa cosa facciamo un copy e copiamocelo da noi quindi noi dove dove è stato salvato ConfiUI quindi dovrebbe essere salvato sotto ConfiUI Windows Portable ConfiUI Models Checkpoints a questo punto ci impiega un attimo copiarselo nel posto giusto aspettiamo un attimo ok quindi il file l'abbiamo salvato da qui l'abbiamo trascinato dentro dove abbiamo il avevamo il 1.5 Prunet Ema Only adesso abbiamo anche l'SDXL quindi adesso andiamo dentro l'interfaccia ConfiUI e teoricamente magari non adesso dovremmo probabilmente rilanciarlo quindi sospendo e lo rilancio e dovremmo vedere il prossimo lancio forse refresh vediamo un po' ecco vedete che c'è in effetti SDXL special e qui possiamo metterci praticamente il Beautiful Seedry Nature eccetera quindi a questo punto abbiamo praticamente il nostro SDXL al posto del precedente quindi facendo Q prompt lui carica il modello adesso metto pause ok ci è impiegato un bel po' a caricare questi modelli però vedete da questo che praticamente sta avanzando e sta creando praticamente l'immagine con questo modello lo sta decodificando vediamo l'immagine prodotta l'immagine prodotta è la bottiglia proviamo adesso a vedere se riusciamo a riprodurre questa immagine con Niji quindi dobbiamo fare il positive sarebbe questo con FUI gli mettiamo il positive questo il negative è tutta questa cosa qua quindi apriamo mettere qua nel negative poi però vediamo che abbiamo il sampler dpm 3msd e carras quindi lo cerchiamo qua il sampler dpm 3sd e carras che dpm ma non c'è proprio quello lì però possiamo prendere il dpm normal simple ok quindi il cfg tra l'altro abbiamo detto che era 13,5 ha fatto con 66 step quindi cfg 13,5 ha fatto 66 step ok poi prendiamo ancora il seed che era questo gli omettiamo fixed e gli mettiamo il seed che avevamo di là ci manca ancora il sampler name proviamo proviamo questo e proviamo a farlo in questo modo e vediamo se otteniamo qualcosa di simile li facciamo cue quindi prendo i prompt si fa essendo 6 passaggi ok allora per ottenere un'immagine simile a quella presentata dal civitai sono partito da 1024 e gli ho messo visto che non è presente dentro confuiui dpm++ 3m sd e carras però ho trovato su internet che si può realizzare attraverso il dpm pp2m e carras quindi vedete che ottengo un'immagine tutto sommato non troppo diversa soprattutto la cosa che è interessante è che è carina quindi questo modello sdxl praticamente utilizzato col prompt di civitai ci fornisce un risultato simile adesso ci è impiegato un po' per ottenerlo ma la cosa è interessante ok quindi è tutto per quanto riguarda la possibilità di avere dei risultati sdxl paragonabili ai civitai in realtà probabilmente per ottenere questa immagine loro hanno fatto qualche procedimento leggermente diverso e quindi probabilmente avranno fatto non soltanto questo workflow che è quello che applica l'immagine direttamente e fa il k-sampler 66 volte ma avranno fatto anche il refiner che è un workflow che vedremo probabilmente in un prossimo video questo è tutto per questo video buonasera a